Prima Sandra Murri ha parlato dell'ergastolo ostativo, che è un punto molto importante. E allora vi voglio fare ascoltare le parole del procuratore Nino Di Matteo. Sono parole chiare e molto forti. Ascoltiamole. Fu Giovanni Falcone per primo a capire e a illustrare anche pubblicamente la specificità del sistema e a concepire quella normativa penitenziaria con l'ergastolo ostativo come base principale che oggi viene smantellata. Il dato oggettivo è questo. E io credo che in questo momento, anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, molti mafiosi e stragisti siano molto contenti. Nessuno vuole concepire la pena come una vendetta dello Stato. Però lo Stato ha anche delle finalità di prevenzione che devono sempre far considerare la specificità del sistema mafioso anche nell'ottica della tutela di altri principi costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato. Parole chiare e molto precise. Una in particolare è la specificità del fenomeno mafioso. Non lo si può equiparare. È un'organizzazione segreta, ci si entra e ci si esce solo con la collaborazione. Altrimenti si resta lì tutta la vita. Avvocato Rigotti? Mai. Il rischio più grande che corrono i mafiosi e diversi miei clienti lo hanno affermato è l'ergastolo. La condanna è l'ergastolo. Perché la condanna è l'ergastolo è la definitività della carcerazione. E quindi lì si può dire, come si usava a dire tra di loro, fatti il carcerato. A questo punto tu sei fuori perché sei condannato a vita. Fatti il carcerato. Ora comandiamo noi. Ma fin quando si apre la porta la possibilità di avere degli accessi non collegati più alla presunzione ma da dimostrare addirittura intervenendo con l'inversione dell'onere della prova e l'accusa che deve dimostrare la persistenza dei legami con la criminalità. Quando si apre la porta è chiaro che si ritorna a comandare e si rafforza l'organizzazione perché dentro ce ne sono centinaia di mafiosi condannati all'ergastolo. Centinaia. Si spalanca una porta. È un grima al dello. Dottor Lari. È una parte del papello. È una parte del papello. Cioè tutto alla fine riconduce a quello che erano le richieste per evitare le stragi che la mafia fece. Quel famoso papello che sappiamo c'era anche se non si è mai trovato. Posso dire una sola cosa? Al processo di Firenze per la strage di Via dei Gergofili il colonnello Mori mi chiamò da parte e mi disse il suo cliente che aveva tirato fuori la storia del papello il coinvolgimento. Chi era il suo cliente? Giovanni Brusco. Perfetto. È la persona più seria che sta a collaborare. È chiaro. Dottor Lari che futuro c'è? Qual è il rischio? Le osservazioni di chi mi ha preceduto sono sacrosante però ci limitiamo a questo non concludiamo nulla. purtroppo il legislatore italiano si dovrà adeguare ai principi della Corte Costituzionale che a sua volta si è adeguati ai principi europei diciamo così. Quindi cosa succederà? La fondazione Falcone ha fatto una proposta che io reputo faccio parte della fondazione ma potrei anche non condividerla la condivido cioè mettere dei paletti tali da rendere la possibilità diciamo di eliminare dal gas prostrativo direi quasi residuale nel senso che imporre non soltanto l'obbligo del risarcimento del danno che è puramente ridicolo perché i mafiosi sono nulla facenti ma prevedere che l'obbligo del risarcimento del danno non sia soltanto dissociarsi dall'associazione criminale ma l'obbligo della verità cioè l'obbligo della verità come obbligo a cui bisogna necessariamente dare riscontro per i parenti delle vittime quindi non basta dire io non credo più in cosa nostra mi sono comportato bene eccetera ho risarcito con tutti i miei beni ma devo anche dire la verità su quello che è successo il legislatore deve trovare il modo di poter operare un distingo tra l'obbligo della verità per risarcire moralmente non soltanto patrimonialmente le vittime dei reati e la collaborazione vale